Sono 4.394 i nuovi positivi al covid registrati in Campania in base al bollettino dell'unità di crisi su una base di 39.508 tamponi. Il tasso di incidenza scende all'11,12 per cento contro il 12,82 di ieri. Si segnalano tuttavia 12 nuove vittime nelle ultime 48 ore, più quattro decessi in giornata, due in Irpinia, una paziente di 73 anni di Aiello e una 94enne di Mercogliano e due nel Sannio di 82 e 88 anni, rispettivamente di Benevento e Valle Saccarda. Nel complesso continua a calare la pressione sugli ospedali. Una recente indagine condotta al Cotugno sequenziando il virus in 160 ricoverati, al 14 febbraio risultavano in terapia intensiva tutti Omicron, la metà non vaccinati e gli altri con gravi patologie. Da qui la necessità di accelerare con la quarta dose per i più fragili, così come si attende l'arrivo del nuovo farmaco Novavax, il nuovo vaccino su base proteica, che potrebbe convincere anche i Novavax più timorosi. La consegna è prevista per marzo, come conferma Ugo Tramma dell'unità di crisi. Diciamo che il vaccino Novavax ha avuto l'autorizzazione, però ancora non è stato distribuito alle regioni, si prevede dopo la prima settimana di marzo. Per quello che invece la quarta dose, parliamo dei soggetti che avevano immunodepressi, che hanno delle patologie e quindi hanno fatto la terza dose di rafforzamento e quindi diventa la quarta dose dal primo marzo. Quindi lo gente sono soggetti già identificati all'interno delle strutture ospedaliere delle nostre aziende sanitarie che hanno fatto il ciclo vaccinale e verranno seguiti per fare questa quarta dose.